Grazie a tutti per venire. Buongiorno, oggi con un artista italiano, Donio Casso. La regola delle cose e le cose non sono la nostra invenzione. La regola delle cose non sono la nostra invenzione. Per esempio, la regola che determina, se lo lascio cadere quest'acqua, c'è la forza di gravità che la tira a sé. Questa non l'abbiamo inventata noi, ce la siamo trovata. Così incontriamo la pioggia, le regole sulla pioggia. La regola della pioggia è che se usciamo mentre piove, ci bagniamo. Possiamo inventare l'ombrello per non bagnarsi. Ma non possiamo eliminare la pioggia. Allora cosa succede, lavorando sui segni? Che la libertà che un artista ha, o anche chi non è artista, chi usa i segni, chi parla, per esempio, non necessariamente è un artista. che la libertà che tiene l'artista, o non necessariamente è un artista, sino chi parla, per esempio, chi trabaja con i signos, ha una libertà superiore a quella che uno può avere sulle cose. La libertà, quindi, dell'artista, che trabaja con i signos, è superiore alla libertà che tiene quello che trabaja sulle cose. Cosa vuol dire questo nella pratica? Che significa questo nella pratica? Per esempio, un tempo, al tempo dei fratelli Reitt, c'erano persone importanti, scienziati, i quali dicevano che un oggetto più pesante dell'aria non può volare. C'erano altre persone che non erano scienziati, ma erano religiosi. Le quali dicevano che se Dio avesse voluto che l'uomo vola, gli avrebbe fatto le ali. Come è che si arrivassi all'aeroplano? E come è che si arrivassi all'aeroplano? Lavorando sui segni, non sulle cose. Prima sui segni. Trabajando sui segni, non sulle cose. Trabajando sui segni. Prima bisognava pensare. Prima bisognava poi disegnare sempre segni. Poi provarlo fino a che non funzionava. Che cosa ha cambiato nella mente dell'uomo tutto questo? Che Cristoforo Colombo, per arrivare da queste parti, ha impiegato tre mesi. Io, per arrivare, ho arrivato 14 ore. Che cosa vuol dire come concezione del tempo? Come pensava il tempo Cristoforo Colombo, come lo posso pensare io? Per esempio, Cristoforo Colombo non sapeva, né poteva saperlo, che cos'è il jet lag. Mentre io lo so, tanto è vero che sono ancora addormentato. Mentre io, sì lo so, e per provarlo, le posso dire che non posso pensare che sto bambino ancora. Cioè, l'arte, in genere, la razione che tutti gli uomini possono comprare con i segni, è veramente la grande forza degli uomini. È direi, l'arte e tutto quello che gli uomini possono fare con i segni, costituisce la gran forza degli uomini. Ed è una forza che è in sviluppo formidabile. È una forza che si sta desarrollando di maniera formidabile. Se uno si domanda cosa succederà dell'arte nel futuro, se uno si pregunte che va a essere dell'arte nel futuro, non può dare una risposta sicura. Non può dare una risposta sicura. Però una cosa la può fare. Però può fare una cosa. Può realizzare dei filmati che chiamiamo di fantascienza. Seguire. Può fare filmazioni che chiamiamo di scienza-ficzione. Può anche scrivere delle cose che chiamiamo fantascienza. Seguire. E allora, lavorando in questa maniera, io posso immaginare, per esempio, che gli architetti domani, oltre al bagno e al doppio bagno, la cucina, progetteranno una stanza delle meraviglie. che, ademà di disegnare, di progettare bagno, la cucina, eccetera, vanno a progettare una pieza, una habitazione delle meraviglie. Proprio un luogo, come questo. Un recinto, sì, preparato. Dove tutte le famiglie si riuniscono intorno, non a un'immagine proiettata. Donde tutte le famiglie si riunono, non al reddito di un'immagine proiettata, ma immagini che si formano al centro della stanza e noi possiamo vederle girando intorno. Sino al reddito di immagini che si materializzano nel medio di un'abitazione e noi possiamo rodiarle. E siccome saranno immagini che non potrei toccare, visto che saranno immagini che non potrebbero essere possibile toccare, però potrei ficcartici dentro. E qualcuno dirà, attenzione, perché i raggi di questa cosa fanno male l'ipofisi. E allora ricorreranno i bambini che invece giocheranno in mezzo a queste cose. Io non lo so se succederanno queste cose. Però nessuno sapeva che i fratelli Raita avrebbero volato. Allora siamo dell'utopia. Il mondo dell'utopia non è un mondo che non si può realizzare. Utopia non significa che sia un mondo che non si può realizzare. Non si realizza adesso. Non sarà ora che non si concretizza. Ma domani sì. Però chissà magnana sì. E tante cose si sono realizzate domani. Il domani di ieri. E molte cose si hanno concretato nel magnano, nel magnano dell'acerto. Pensate cosa vuol dire usare il cellulare. Piense nel cellulare, per esempio. Che cosa è successo già nel breve tempo tra il telefono fisso e il cellulare. Che è lo che passò in questo poco tempo tra il telefono fisso e il cellulare. Con il telefono fisso io chiamavo qualcuno e immaginavo che fosse seduto in una pottruna che conoscevo oppure che fosse da qualche parte però vicino al telefono. Con il telefono fisso mi chiamava a qualcuno e me lo immaginavo sentato in un sillone che lo conoscia o in qualche parte però cerca del telefono. e non gli chiedevo mai dove sei. Adesso chiunque mi telefoni la prima cosa gli chiedo dove stai. La prima cosa che mi viene in mente è che mi risponda la sua casa e la sua casa è vicina alla mia. e lui mi risponda no sono a Cordoba e lui mi risponda no sono a Cordoba Cordoba in Spagna Cordoba in Spagna no no in Argentina in Argentina e come vedete lo spazio diventa un'altra cosa cioè queste cose si trasformano perché l'ambiente si trasforma la tecnologia si trasforma pensate le cose che si possono fare con queste telefonine fatte così raccogliete tutte le immagini perfette le cose che si possono fare con questi telefoni cellulari con solo abrirli e ricogliere tutte le immagini in forma perfetta oggi puoi prendere una telecamera la piazza lì te ne vai e quando torni il film te l'hanno fatto oggi puoi installare una telecamera è un'esagerazione naturalmente però se qualcuno di voi non anzi sicuramente voi non sapete di cosa sto per parlarvi perché non sapete che cos'erano le macchine fotografiche di 30 anni fa senza andare a conto cosa significava ottenere immagini con una di quelle macchine dovevate tenere conto della pellicola dovevate tenere conto della pellicola se mi domanda cosa è una pellicola forse non sapete rispondere come andava trattata come bisognava misurare la luce regolare il diaframma quanta luce doveva entrare nella pellicola per impressionarla in bagno per svilupparla ma cosa tutto per regolarla eccetera fa tutta la macchina allora pensate che cosa è la mente di un bambino di oggi che usa tranquillamente questi telefonini e fa delle immagini bellissime e che rapporto può avere con il nonno il quale ricorda invece le immagini diverse allora un'altra cosa che è fortemente cambiata qual è che un tempo molto tempo fa il bambino si rivolgeva al nonno gli chiedeva delle cose e ascoltava con attenzione le cose che il nonno sapeva adesso è tutto rovesciato è il nonno che chiede al nipotino le cose che il nonno non sa ma il nipotino si entra in internet e può sapere tutto e può raccontare al nonno le cose che il nonno non sa allora un tempo era il nipotino che si meravigliava racconta a mio nonno racconta a mio nonno e adesso è il nonno che si meraviglia quando il suo nipotino racconta anche questo che sembra una cosa non diciamo stupida ma insomma la vediamo tutti i giorni ci sembra una cosa normale anche questo che se no è una cosa stupida però però se pensiamo alla storia dell'uomo alle intenzioni a quando per esempio adesso è il primo che mi viene in mente a quando nelle navi hanno schiazzato il timone prima ecco prima andavano a remi tanti remi a destra a sinistra la nave doveva girare ti fermi qui e il remi di lì e la nave girava questa cosa era possibile se si inventava un'altra cosa che era la chiglia la chiglia è quella che sta sotto la nave altrimenti la nave non gira ecco cosa vuol dire questo in termini di esperienza di conoscenza che significa questo in termini di esperienza di conoscimento che si viaja di più si conoscono persone si conoscono popolazioni civiltà diverse si conoscono per imparare si conoscono per portare la guerra tante cose significa che si viaja molto più si viaja per conoscere gente per aprendere anche per per peggare per fare guerras ancora pensate alle invenzioni della stampa pensate alla invenzione dell'impresore prima gli ingressi facevano una uno a uno fate a mano con la stampa si è velocizzata la cosa cosa ha significato l'invenzione della carta che significò la inversione del papel il riciclaggio degli abiti delle camicie eccetera quando proprio erano sfiancate non servivano a nient'altro diventavano carta diventavano carta sulla carta si poteva scrivere ma si poteva disegnare e quando stampavi molti disegni potevi distribuirli un artista viveva a Firenze un artista che vivia in Firenze per esempio stampava le cose che arrivavano in Finlandia che arrivavano a Finlandia ecco tutte queste sono trasformazioni adesso sto facendo un discorso che non è il discorso dell'artista ovviamente perché non sono le cose che ci dovrebbero interessare il mio è piuttosto un discorso sociologico come si evolve la società il pensiero la filosofia tutte queste cose ecco invece l'artista ha la possibilità di giocare ancora più liberamente perché può fare tutti gli esperimenti che vuole non ci perde nulla è un atteggiamento che può vivere anche lo scienziato ecco lo scienziato cosa fa? lavora sui suoi segni alcuni dei quali sono di ordine strettamente comunicativo cioè comunicativo vuol dire mettere in comune ciò che lui sa con ciò che gli altri sanno per informarli su qualcosa che ancora non sanno ma soprattutto corre è un crinale molto poco deciso però soprattutto va in una direzione poco decidida cioè è il crinale della creatività e questo è un elemento comune a scienziati e artisti che cosa vuol dire sia per gli scienziati che per gli artisti vuol dire che c'è un momento dove arriviamo attraverso la ragione la ragione vuol dire le cose che conosciamo per un artista che dipinge per esempio tutto ciò che riguarda la pittura ecco c'è un momento in cui tutte le cose che sa sulla pittura sono le cose che può mettere in comune cioè le cose che anche gli altri sanno oppure possono sapere se qualcuno gliele insegna ecco nel punto della creatività c'è un momento in cui la ragione non ti aiuta più cioè è come se ti trovassi sul crinale appunto e non puoi muoverti che di qua o di qua ecco se ti muovi di qua ritorni nelle cose che sapevi già se ti muovi dall'altra parte scopri che c'è una cosa che ancora non sapevi per lo scienziato è la stessa cosa anche lui si trova in un crinale se va di qua continua a insegnare all'università fisica mettiamo se si si clina di qua scopre il bosone di x una cosa che è recentissima per il scientifico è lo è il bosone di x il bosone X è una particella della materia che servirebbe a dare massa in un centomiliandesimo di secondo prima del Big Bang, poco prima tutta la materia non ha massa, non ha peso, non è neppesante nella cella il bosone X da quel momento poi gli dà la massa è una cosa che ha governato una scienziata italiana a Ginevra, al CERN è una cosa che scopriò, che esplicò un scientifico italiano a Ginevra scientifica, femmina doma, non me lo so, come si chiama io non so io ho una memoria per quella parola in generale, quando non mi torna il nome, il dico si chiama Alzheimer non mi ricordo il nome, però una scientifica di Ginevra impuso italiana si, eh, demostro, perché è molto interessante perché Vicks lo prevede, il signor Vicks con calcoli matematici, poi tutti gli scientifici per 25 anni lo buscano fino a che questo gruppo di investigatori, di investigatori del CERN lograrono dimostrare matematicamente con esperimenti che effettivamente si chiama il bosone, il bosone, il bosone, il bosone, il bosone, il bosone e addirittura qualcuno la chiama la particella di Dio allora questa è una cosa meravigliosa da dove nasce? nasce dalla creatività che nasce dalla creatività non possiamo dire dagli artisti, però se consideriamo gli scienziati nel loro mondo, nel loro mondo, degli artisti, beh, nasce dall'arte anche questa non possiamo dire che nasce dall'artista, come si considerano gli scienziati del suo mondo e possiamo dire che non possiamo considerarlo come artista adesso vi dico l'ultima cosa e poi se volete mi fate delle domande se no andiamo accanto l'ultima cosa che voglio dirvi è questa l'arte non dà risposte o meglio, dà risposte che però non sono dell'oggetto artistico un oggetto artistico, cioè un quadro, una statua, un video, una musica non esiste se non c'è qualcuno che guarda, ascolta, che interroga questo cosa vuol dire? vuol dire che l'oggetto da solo se è un quadro o è un pezzo di tela se è una scultura in legno o è un pezzo di legno se è una scultura in marmo o è un pezzo di marmo e solo chi si avvicina decide cos'è naturalmente ci sono molti livelli di contatto tant'è vero che ci sono a scuole dell'arte, come in questo caso che studiano i vari contatti che sono avvenuti prima per cercare di avvicinarci meglio all'opera d'arte lo qual dimuestra che esistono le scuole d'arte come questa che studiano la differente forma di acercarsi ad un oggetto artistico ma è sempre la persona che osserva, che indaga, che interroga, che fa parte dell'opera d'arte questo vuol dire che l'opera d'arte cambia in continuazione a seconda di chi è vicino e può cambiare in meglio o in peggio e può cambiare per migliorare o per empeorar a seconda del punto di vista secondo il punto di vista per esempio, in meglio secondo il punto di vista dei critici che può migliorare secondo il punto di vista dei critici in meglio dal punto di vista degli artisti che non amano i critici l'opera è sempre libero, davanti a qualcuno in Italia c'è stata una campagna pubblicitaria su un'acqua minerale si chiama Ferrarelle ecco, la pubblicità era fatta così c'era la rappresentazione della Gioconda in una la Gioconda aveva capelli lisci in un'altra aveva capelli lisci e l'altra era com'è e la pubblicità diceva liscia, gasata o ferrarelle la pubblicità diceva liscia con gas gasificata o ferrarelle o ferrarelle che ha il gas però è naturale eccetera allora, cosa vuol dire? che se uno va all'undro e va a vedere la Gioconda e i contatti con l'arte sono scarsi appena vede la Gioconda questo significa che se uno va all'undro e la Gioconda e il suo conoscimento di arte è scaso appena mira la Gioconda constaterà scientificamente che non è liscia né casata mai ferrarelle constaterà e comprobarà scientificamente che non è liscia né gasificata però che è ferrarelle naturalmente se uno sa molte cose sulla Gioconda perché ha studiato la storia dell'arte perché sei innamorato della Gioconda perché è il custode della Gioconda è chiaro che vedrà qualcosa di diverso e la vedrà attraverso il vetro e anche il proiettile che la Gioconda ha perché bisogna proteggerla e la vera attraverso il video di un grado che protegge la Gioconda e tuttavia se chi non sa delle cose sulla Gioconda e va all'undro e chiede al custode senta ma ha detto Tonino Casula che lei è molto gentile me lo toglie il vetro perché quando io guardo la Gioconda vedo la Gioconda e poi anche la mia faccia e quindi anche se potrebbe succedere che si lei va all'urre e le dice al cuidador mire, mi ha detto Tonino Casula che lei è molto gentile e le pido per favore che mi saque il video brindato perché quando miro la Gioconda vedo anche la mia immagine reflejata allora mi saca il vetro e dico grazie finalmente ho capito è ferrarelle adesso se vuole te potete farmi delle domande su video che avete visto o altre cose a qualunque domanda io rispondo come pesano la bugia bueno, se pregunta io vi a contestare per supuesto sempre lo vedo a contestare una mentira preguntas sì no ma per semplicare la novedà il nuovo sul messo all'empasi sulle le novità sulle le cose l'uova che ha no, ripete e anche nel senso che qui ha messo all'empasi sulle le cose l'uova Sì, sì, sì. Sì, certo. Sì. 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 la guerra del golfo esteticamente lo passano al piano ficzionale, cremo che la guerra del golfo non esistio, sino che fu una questione etica. Lei pensa se questi limiti non si renderanno una massa che può trasformare il potere politico di turma, per esempio la guerra del golfo, se ce la fanno vedere come una fantascienza noi crediamo che non ha mai esistito. Questo è vero, però tutto questo fa parte della cultura di tutti. In Italia c'è stato un liberale, quindi non un uomo di sinistra, il quale diceva conoscere per deliberare, si chiamava Einaudi. Cioè significava, devi conoscere per poter votare. Ma cosa vuol dire conoscere? Chi ti deve informare? La televisione? I giornali? La radio? E invece sì, ma tu devi imparare a usarle. Perché altrimenti nessuno ti dice nulla, ma devi sapere come funziona. il dispositivo mi serve. Il come non è cosa, capito? Sì. che decidono la guerra nel golfo, o altro, e che decidono di farcela passare come una fantascienza. non solo gli artisti. Non solo gli artisti. Però se impari, scusami, se impariamo a governare queste cose, allora forse, forse dubbi ce ne sono. perché quando impari una cosa che ha più potere di te te la distrugge. Questa è una regola, è una regola. Però, per l'altra parte, esiste la gente che tiene potere che, se non le conviene, questa cosa che non si mette la distrugge, perché tiene la plata per pagare il servo. Il mio gesto, di non parlare. Questa è la prima, eh? C'è la prima, e la prima. C'è la prima. C'è la prima. Sono anche queste, eh? Sono signi di interventi, non posso fare in particolare. Altra domanda? Non ce ne sono. Quattro domanda? Quattro domanda? Ok. All'unico sincrono per la Paglia, di quello che ha causato il brazzo? Non le ha causato piacere, perché... All'unico sincrono per la Paglia. No miudere. Non si miudere ne sono il contemporale e il desauratico della Paglia. Si lo sai come si o bambini, non c'è l'articolo della Paglia. L'articolo della Paglia, che si usano le sono le è orate, il campo artistico è come come se usano con altri campi, che è il della pubblicità. Annette, come si usano le sono le è orate, il campo artistico che si incrocia con la realtà, con la pubblicità, il campo artistico con la pubblicità. Sì, però non usa il campo artistico nel momento in cui il campo artistico ti pone delle domande a cui non si usa, ma quando il campo artistico è stato assentato. Cioè ci sono persone, critici, storici, che hanno detto tante cose, per cui è quella. In realtà viene una cosa che io dico sempre, che è questa. Gli artisti sono come gli assassini che condurano il delitto perfetto. Allora, l'assassino che fa il delitto perfetto, cosa fa? Dissemina il territorio di tracce false. Quindi il poliziotto, che è lo storico e o il critico, inseguono queste tracce ma non trovano l'assassino. E però, se sono storici, scrivono libri di storia. Però se sono storici, scrivono libri di storia. Se sono critici, scrivono libri di critica. Libri di critica, se sono critico. La gente legge questi libri. La gente lo lee. E capisce che, per esempio, Van Gogh era uno, un po' matto che si togliò l'orecchio. Allora, mostri il suo girasole, lo metti nella pubblicità, la gente crede di capire. E invece, Van Gogh è uno che ha compiuto il delitto perfetto. Il luogo delle flore del girasole. Ma noi sappiamo che il segno, cioè la parola girasole, sta al posto del girasole, ma non è il girasole. E noi sappiamo che la parola girasole sta nel luogo del girasole, però non è. Dunque, bisognerebbe ricominciare l'indagine per cercare l'assassino. Per cercare un attraccio che prima non avevamo visto. Ovviamente la pubblicità non può proportelo così. La pubblicità vuole venderti una cosa e quindi va sulle cose che tu sei sicura di conoscere. Cioè non hai ancora cercato neppure tu l'assassino, capito? Non l'hai ancora trovato. E se mi sentite a voi, potete ancora incontrarvi la sensazione. Però intanto ti vendono 100. E ti ha preso e ti ha girato. Ti ha girato? Ti ha girato? Ti ha preso le spalle, insomma. Ti ha preso? Ti ha preso le spalle, insomma. Ti ha preso le spalle, insomma. Ti ha preso le spalle, insomma. Cioè la pubblicità non ti deve far pensare troppo. Non ti deve far pensare troppo. Non ti deve far pensare troppo. Prepariamo. Se principi lo supo non funziona. La pubblicità non te deve pensare demasiado. Porque se pensare demasiado la pubblicità di perdere più suci. Grazie. Grazie. 60.000 erano mentirosi. Tutti gli artisti sono. Tutti gli artisti sono mentirosi. Quindi, dovrebbero fare le opere e tagliarsi la lingua. Diceva Max Ernst, diceva agli artisti di non tagliare la lingua. Tendrían che fare su obra e guardarse la lingua. Perché fanno le opere e poi sopra ci mettono un buco di Roma che non c'entra. Cioè, ogni linguaggio semisico è una cosa, il linguaggio semverbale è un'altra, non li puoi mettere insieme. Camminano in parallelo, ma non si sopra poco. E qui, io posso dire, se uno avesse fotografato un semisimo, va bene. Tutti gli artisti sono semis, sì, è vero. Sì, sì. Però non si può superponere, camminano in parallelo. No, però hanno sistemi diversi. Per esempio, io ho rovesciato questa bottiglia. Qualcuno potrebbe aver fotografato la cosa, no? E io potrei titolare con la fotografia e tornerò a casa una rovescia la cosa. Alguien potrebbe aver fotografiato invece quando si muove l'agua, ma io potrei aver fotografato una foto e io potrei avere un titolo, toglie un tasso e uno vuole con l'agua. Ecco, se fotografa adesso com'è questa situazione, non può dire, qui c'era, tornerò a casa una rovescia, perché non c'è più. È stato ripulito tutto, tutto in ordine. Ecco, le parole possono dire c'era, possono usare il passato, possono dire il futuro. Le immagini, no, sono quelle che sono. E quindi non è che tu guardando questo scopri che prima qualcuno lo ha lasciato l'altra. È cioè, se tomarono una foto ora, lo podriano dire sì, había algo a casa, però ora non è più. Le immagini sono lo che hai ora, non puoi dire había. E' lo che hai in questo momento. Cioè, le cose sono le cose. Le parole possono negarle. Las parole possono negarle a le cose. La bottiglia non può negare la bottiglia. Però posso dire, posso dirlo, che sia vero o falsa una importanza. Questa non è una bottiglia. Ma questa è un frigorifero. Posso dirlo. La bottiglia non può negare la bottiglia. Perciò, quando la sentita non si può negare la bottiglia. Perché i segni mi permettono di negare, affermare, domandare. Cioè, tutte cose che nella realtà non si pongono. Cioè, le cose non sono o non sono. E quando non sappiamo se sono o non sono, interveniamo con i segni per cercare di capire se sono o non sono. Las cose sono o non sono. E quando non le intendiamo interveniamo con i signi per cercare di entendere se sono o non sono. Cioè, la forza del segno è questa. Esa è la forza del signo. Tu puoi pensare tutto. Anche pensieri più orrendi che fare. Poi pensare tutto. Inclusive, i pensamenti più orribli. Lo puoi fare. Poi hai sempre una riserva di salvezza. Un pensiero orrendo che ti attraversa la mente, ti fa stare male, lo rubi. Ma se hai una cosa, per esempio una brutta malattia, non è che la regola è basta. Non puoi prenderla. Le regole della cosa sono diverse. Volvemo allo stesso. La regola delle cose è differente della regola delle cose. A farla breve. Per gli artisti questa forma di libertà non ha limiti, non ha i paletti. Non va da qui a qui. C'è tutta. C'è tutta la salute mentale, anche il pensiero orrendo, è salute mentale. Bene farlo piuttosto che non farlo. Tutta la salute mentale, anche il pensamento più orribile, presenta la salute mentale. Per cui sono statupeati, può essere numerico. Però se non s'entendono. Quüm haermos statupeati alcun signo o signo, o qual è stata inspirata? Qu'è stata inspirata? Con la salute mentale. Oh, grazie per la salute mentale. allora io non credo nella ispirazione cioè non credo che ci sia qualcosa che mi dici all'ordine tutto e invece procedo in questa maniera io non credo che gli artisti abbiano un pensiero sublime dentro poi lo tirano fuori gli mettono la cravatta lo rendono accettabile e lo regalano all'umanità che ne ha tanto bisogno e non è così gli artisti non hanno pensieri sublime più di quanto non ce l'abbiano il Presidente della Repubblica il tassista una casalinga però la differenza tra Presidente della Repubblica tassista un paquete di dinamite che possono farlo però per farlo hai tutto un sistema quando parli in spagnolo hai un repertorio di dinamite che puoi utilizzare perché conosci la grammatica conosci la sintassi conosci il lessico conosci la lingua conosci i segni delle parole quando devi scrivere una lettera al tuo fidanzato sempre che ne scriviate ancora perché adesso non si fa si scrivono in internet è un'altra cosa ma se devi scrivere una lettera una lettera d'amore non è che prendi il foglio di carta e non te l'hai fatta non devi pensare allora cominci a pensare a lui e ti vengono in mente la sua faccia la sua bocca il suo corpo e allora cominci a scrivere la tua bocca quando hai scritto la tua bocca cosa ci mettiamo dopo? quindi ti inspirasi e ti senti la tua bocca quando già scrivete la tua bocca pensa che le pongo ora? cosa ci metto ora? la tua bocca la desidero la deseo allora metto prima la desidero desidero la tua bocca e quindi cambia i segni come si è venuto in mente la bocca desidero la cambia metti desidero la tua bocca se te ocurrieron due signi deseo e bocca però lo pones in ordine diverso cambia due signi appena hai scritto questo la re mente e perché la desidero? dopo di questo pensare a lui perché la deseo? allora può venirti un beck in mente un pensiero che non osi dirlo non osi scriverlo perché magari non puoi apparire in budica perché magari non puoi apparire in budica allora non lo scrivo oppure cerchi di scriverlo ma usando parole che non ti facciano apparire in budica o non lo scrivi solo scrivi distrazzandolo un poco alla fine tanti saluti e baci tanti saluti e baci saluti e baci ecco e così io procedo comincio con una cosa hai visto delle cose che ruotano eccetera allora il computer mi dà la possibilità di crearne una posso chiedergli mettici 12 punti 14 e lui me le fa poi mi domanda cosa ci metto in questo oggetto che sto creando ci metto una specie di pelle e poi mi pregunto che avevo con il tipo dentro di questo oggetto che sto creando con una specie di piedi che convierta dove lo prendo? lo prendo in altri materiali che ho e ce l'attacco quando ho fatto questa cosa mi chiedo cosa gli faccio fare? quando lo tengo tutto detto mi pregunto che li amo a fare? qui sono ancora a desiderio nella tua bocca siamo ancora finiti decido che lo faccio andare da sinistra a destra ma lo faccio muovere così e se lo facessi anche girare e allora lo muovo da qui a qui però facendolo girare e quindi siamo a domandarmi perché desidero la tua bocca quasi quasi ne faccio entrare un altro la faccio entrare da destra e mentre entra si scontra con quello che sta uscendo cosa gli faccio fare? gli faccio passare dritti no 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 è meglio che li scontri e girano tutti e due e così mi posso per cui all'inizio io non so nulla di ciò che farò come non sai nulla tu della lettera che scriverai al principio non si ecco quando l'hai scritta hai detto ho scritto la lettera quando l'ho finita ho detto finisco la lettera per tornare a ciò che dicevo dei pensieri sublime mettiamo che questa opera che io ho fatto quella sia un pensiero sublime io non l'ho tirata fuori da me ma l'ho fatta davanti a me quando l'ho finita e mi sembra che sia un pensiero sublime allora la metto dentro quindi non l'ho tirata fuori ma l'ho messa dentro e una volta che l'ho messa dentro ne posso parlare e ubriacare le parole ai miei amici a raccontargli questo pensiero sublime allora vuol dire che io mi sono arricchito di un pensiero che prima non avevo e che io metto a disposizione di tutti e tutti possono mandarlo dentro e quando incontrano i loro amici ubriacari di far ore con questo pensiero sublime la vita continua così gli artisti hanno una bella parte di queste cose perché facendole tutto sommato sono divertenti diciamo che non gli cambiano la vita agli uomini però gli aiutano a vivere diciamo che non gli cambiano la vita agli uomini però che gli aiutano a vivere allora quello un pochino più felice un pochino facendole per lo meno un pochino un pochino più felice certo un pochino più felice un pochino più felice un pochino più felice perché io non le intendo e anche quando sono in italiano non le capisco e anche quando sono in italiano non le capisco perché le istruzioni queste cose le fanno per chi già sa le cose perché le istruzioni queste cose le fanno per chi già sa le cose chi non le sa non capisce certe parole quindi che cosa deve fare fa quello che ho fatto io per provare errori ci tenta ripeto ripeto finché non capisce ah così lo fai allora io uso tre programmi uno si chiama 3D Max una delle ultime versioni che è un programma di una potenza pazzesca che tiene un enorme potenziale nella ultima versione puoi chiedergli costruiscimi un parerello epipodo e potete dire costruimi un parerello epipodo è perfetto è perfetto adesso lo devi distorcere così di 12 gradi ora lo devi distorsionare in 12 gradi è perfetto adesso mettici una camicia a fiori ora ponere una camicia con fiori gli dico qual è la camicia la messa è perfetto poi gli dico adesso che la hai contorta stirala è perfetto adesso piegala in due e la riuscite è perfetto gli dici farei qualunque cosa e la fai e poi la inserisci in un pezzo del lavoro desidera la tua bocca che vuol dire 4 secondi fai questo lavoro si sposta di qua e gira questi 4 secondi vanno realizzati facendo muovere gli oggetti a cavallo della pista sonora quindi tu prendi questi 4 secondi e li metti in un altro programma che si chiama Pynacle che è un software di post-produzione ci prendi gli oggetti li metti insieme ci metti le dissolvenze queste cose qua e quindi facendo così 4 secondi poi altri 8 poi altri 12 li aggiungi li aggiungi poi li uccidere le musiche perché hai finito l'opera quando hai finito l'opera devi trasformarla in un file si fa il rendering si chiama così cioè quando termina l'opera la devi trasformare in un file ecco questo Pynacle prende le immagini una per una tic 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 le sistema tutte quante non so 39.000 quindi è un file dove c'è tutta la storia se devo fare forse ti interessa anche l'aspetto tridimensionale se devo fare un oggetto tridimensionale io devo simulare nel programma 3D Max due telecamere che a fianco che a un lineo hanno una distanza più o meno di 6 cm che è la distanza tra una pupilla e l'altra che cosa succede che la telecamera di sinistra guarda ciò che vede l'occhio di sinistra la telecamera di destra guarda ciò che vede l'occhio di destra ciò che vede l'occhio sinistro non è ciò che vede l'occhio destro dunque anche ciò che vede la telecamera di sinistra non è ciò che vede la telecamera di destra la differenza tra le due immagini si chiama discrepanza che è la differenza che voi potete constatare facendo un gioco subito se mettete la mano davanti al naso lo potete comprovar se il testo pone la mano davanti della nariz e guardate ora con l'occhio sinistro ora con l'occhio destro perché non lo fai no 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 andate allora se guardate con l'occhio sinistro e con l'occhio destro con l'occhio sinistro vedete il palmo con l'occhio destro vedete il dorso se allontanate un po' la mano e guardate con l'occhio sinistro con l'occhio destro vedete vedete che vedete un po' meno di palmo un po' meno di dorso e se allontanate moltissimo la differenza è minima queste differenze si chiamano discrepanza vuol dire che quando io lo faccio simolo questa cosa nel mio programma la telecamera di sinistra sta guardando mettiamo il palmo mentre la telecamera di destra sta guardando il dorso più o meno a seconda di come l'allontano dunque cosa devo fare devo fare due rendering uno per l'occhio sinistro e uno per l'occhio destro cioè due file uno che riguarda l'occhio sinistro e uno che riguarda l'occhio destro cosa ne faccio di questi due file li metto in un altro programma che si chiama combustion questo programma che cosa fa li sovrappone li mette uno sopra l'altro ma li scosta un pochino lo sovrappone però con un certo spasaggio quello che sta a sinistra che sporge un pochino è filtrato con un filtro rosso e tutti i colori che stanno nel rendering della telecamera sinistra sono filtrati da questo filtro quindi cosa succede che passano attraverso questo rosso tutti i colori che stanno attraverso il rosso giallo l'arancione queste cose passano mentre respingono non passano tutti i colori che sono tenuti nel ciano il secondo rendering riguarda il ciano che cosa succede che qui passano tutti i colori del ciano verde asurdo eccetera eccetera ma non passano quelli del rosso assolutamente passa tutti i colori che hanno a vedere con le semette però non passa tutto il coso quindi quando noi indossiamo gli occhiali e guardiamo con questa roba il filtro ciano ci fa passare tutti i colori che stanno intorno al ciano il filtro rosso sono due cose diverse una finisce qui l'altra finisce qui poi ci sono tutti i collegamenti se ne vanno dietro dove si creano le immagini e noi vediamo tutti i colori anche se i colori sono indeboliti dal fatto che i filtri portano via il 50% della luminositiva quindi questo è un sistema tremendo orrendo schifo nessuno si chiama nessuno però è il solo che un artista povero si può permettere però è l'unico sistema che si può permettere un artista perché per usare quelli tecnologicamente avanzati che hanno ugualmente gli occhiali ma i colori sono tutti perfettamente visibili eccetera eccetera ci vogliono proiettori speciali scherzi speciali macchine speciali cioè quelle che vedete al cinema ma costano troppo e anche se fossi ricchissimo e potessi comprarmeli verrebbero a trovarmi gli amici per vederli bene fatele a vedere al cinema dipendendo cuesta molto applicarla per una relazione a tutti quanto tempo di lavorazione le llevò questo lavoro quanto tempo ha già messo per fare questo un mesetto un mese perché si lavora adagio adagio 4 secondi per volta 7 secondi e poi mentre stai lavorando tu mi voglia di fare la pipì allora non è che lavori come se stessi scavando una fossa ti lasci anche un po' di tempo per bisogni normali io voglio domandare se lui sempre lavora della stessa maniera questa maniera che non non esce fuori come un pensiero sublime sino che prende una idea e dopo la messa dentro di lui una idea è già una parola grossa è già molto parlare di idea è già che deve saber se sempre trabaja della misma maniera si toma un objeto o idea e poi la elabora e poi la introduce lui dice che una idea non è una gran parola è un po' di una idea può dire che c'è qualcosa di complesso no invece parte la stupida cosa succede se metto un roso sopra un verde non è un'idea è una curiosità una banca di curiosità che succede mi pregunto che succede se pongo una cosa assusta o un'alerta però quando cominci non smetti non so i pittori quelli che fanno ancora le cose da prendere a loro hanno una tela e cominciano con la prima pennellata i pittori per esempio hanno una tela delante di loro e cominciano la prima pennellata ecco mettiamo che non devono fare non so disegnare un cavallo peccalotto ma un'opera astratta diciamo che devi fare una obra astratta allora conficialmente la prima pennellata è in un posto allora il fatto che tu lo metti a sinistra in alto invece che a destra in basso significa che quella pennellata ha già stabilito un rapporto con tutto il resto dello spazio il fatto che questa prima pincelata uno la ubite a la derecha arriva o abajo significa che questa prima pincelata si ha stabilito una relazione con tutto il resto della tela quando metti la seconda pennellata decidi dove metterla la metti a mafianco è una cosa la metti in un'altra posizione allora il rapporto è quello di prima la prima pennellata con tutto lo spazio adesso arriva a un altro elemento il rapporto di quell'elemento con tutto lo spazio e il rapporto di quell'elemento con questo cosa ti richiama questa cura la terza pennellata dove la metti t e dove metti la quarta alla fine è finito il quadro hai vinto cioè non è che parti con un'idea precisa è il linguaggio che ti permette di realizzare una cosa che prima non avevi un pensiero sublime che prima non avevi quando l'hai realizzato dice ah purtroppo ecco ah si dice pochissime volte perché gli artisti pochissime volte faranno una cosa e pensano che però la cosa il capolavoro lo faranno il prossimo fanno il prossimo e non è neanche quello e molto spesso come capire tra me porre tutta la vita alla ricerca di queste cose non le trovi mai e anche un artista non si è quasi nunca dice ah non è costruita ora di arte non si pensa che la va costruita la prossima e non è tutto chiaro abbiamo parlato abbiamo parlato di due momenti di creazione nel contesto del descubrimiento della scienza e nel contesto di lo prepictorico del arte abbiamo parlato di due momenti di la creatività dentro del ámbito della scienza e del arte e del arte e del teore la scienza diciamo a parte della comunicabilità dei signi di esa comunicabilità non di ugualità in questo momento diciamo sta buscando come lo ultimo del materiale la scienza con un esempio in il pubblici sta cercando la domanda la ultima cosa la domanda la ultima risposta di o che grazie grazie va a sero nomerico va a sero nomerico in termini mi canta è buscato la presenza va a sero la presenza nomerico in termini no io non credo che gli scienziati facciano questo gli scienziati sanno che la verità appartiene solo o agli artisti che giocano sui segni liberamente e sono l'intenzione del pubblico oppure al Papa lo scientifico sappia che la verità pertenece la verità pertenece solamente ai artisti che sono piccoli non lo signo a poco ecco mentre gli scienziati sanno che di utilizzare dei modelli gli permettono di capire un evento una cosa particolare possibilmente che riguardi tutte le cose particolari per esempio questa cosa è il coso è un'operazione che avviene non so a un cento miliardesimo di secolto non possiamo nemmeno immaginare non è nemmeno così molto molto meno prima del la materia è in un certo modo con il bosone la materia diventa un'altra cosa con il bosone la materia si trasforma ma noi stiamo a studiare quello che c'era prima di questo centomiliardesimo di miliardesimo di secolto quando ci arriviamo ci arriviamo magari a metà e ci avesserebbe ancora questo pezzettino quando ci andiamo a descubrirlo che sta descubrando la mità e non chiediamo da un'altra parte senza sapere cioè alla verità non ci arriviamo mai se tu pensi a per quanto tempo gli uomini erano convinti che la terra fosse piatta c'è voluto gli esenziali non lo sapevano da un tempo che era rotondo alla verità non si arriva a nunca si piensa che quanto tempo l'uomo creyò che la terra era chata però ci vorremmo Cristoforo Colombo che dice beh buscare un oriente per arrivare pensare ad arrivare in India se avesse saputo che sarebbe arrivata in America dice io questo viaggio non lo faccio si che lo fa si che lo sapeva che girava in America che i sanguin ha esistito di essere vabbè si scherzi naturalmente cioè sono molti tempi ce ne sono molti la terra che gira intorno al sole no il sole che gira intorno alla terra è il nostro universo che si muove così cioè tante cose che abbiamo capito dove sta la verità perché quando gli uomini erano convinti che fosse il sole all'interno della terra avevano ragione perché non c'erano altri motivi per pensare diversamente così come i bambini quando credono che i loro fratellini le hanno portato la cigogna hanno ragione perché non hanno il nostro mente poi crescono e credono di capire come arriva il bambino che poi cresce lì crea in entender come si ha se non viene la verità che anche lì ha un altro benissimo vostro altre domande? perché? è stato bello incontrarvi grazie 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 grazie